Ora che il Comune ha giudicato il servizio di rifezione scolastica al nuovo raggruppamento, la Giunta Masci ha il dovere di dare una risposta alle famiglie sul caro Mense. Lo chiede il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Piero Giampietro. I migliaia, secondo il consigliere Dem, sono in attesa di sapere se a gennaio scatterà o meno l'aumento dei costi. E visto che il bilancio 2024 del Comune di Pescara è in fase di redazione, la Giunta sia trasparente nel comunicare le decisioni che sta assumendo, chiede Giampietro. A settembre, nella seduta della Commissione Controllo e Garanzia, la Giunta si è impegnata a cercare una soluzione sull'argomento. E visto che le nuove tariffe partiranno a gennaio, conclude Giampietro, è necessario che le risposte arrivino in tempi ragionevoli.